Ciao ragazze! La maggior parte sono utilizzati e li ho terminati. I terminati di make-up vi faccio vedere in un altro video perché comunque sono un po' e da un po' che li sto mettendo da parte così vi li mostro tutti insieme. E poi sicuramente fra qualche settimana farò anche un video relativo a tutti i campioncini che sto utilizzando. Sono d'accordo che non si può fare una recensione per quanto riguarda l'utilizzo di un campioncino se è molto piccolo. Però alcuni sono abbastanza grandi e di altri ne avevo più referenze quindi ho avuto più giorni per capire se mi piacevano o non mi piacevano. Comunque quello vedremo in un altro video, qui per scherzo random trovate tutti i prodotti beauty più qualcosina da mangiare, solite tisane che termino. Vi lascio l'enco dei prodotti color prezzo giù nell'info box, se sono prodotti che trovate online come sempre vi metto anche il link. E niente iniziamo! Il primo prodotto che vi mostro è questo qui che è un sapone che ho acquistato da saponi profumi intorno a 1,50€ una cosa del genere del brand Ame Me che non conoscevo. Questo è un sapone per le mani all'olio di argane, in realtà poteva essere utilizzato anche per il viso ma l'ho utilizzato solo per le mani. All'interno ci sono 1000ml di prodotto, quindi un litro e a 12 mesi di pao. E questa era una ricarica, c'era tantissimo prodotto, ci ho messo più di due settimane per terminarlo. Noi abbiamo due porta saponi, uno nel bagno dove andiamo noi femmine tra virgolette e uno nel bagno dove vanno mio padre, mio fratello. Questo l'abbiamo utilizzato solo nel bagno nostro. Mi è piaciuto anche se comunque è un sapone per le mani easy da tutti i giorni, di sicuro non aiuta per questo periodo in cui le mani si sclepolano di più e sono un po' più secche. Ma semplicemente è un sapone per le mani abbastanza easy che si pulisce le mani, però non vi lascio le mani ben idratate come alcuni altri saponi di cui vi ho parlato ultimamente. Sì, per il prezzo chiave ve lo consiglio se lo trovate, però in generale sono quei classici saponi che trovate anche da Mauriz, da risparmio a casa o al supermercato. Poi ho terminato un sapone intimo, questo è della Venus, questo l'avevo acquistato alla Lidl. Non mi ricordo quanto l'avessi pagato ma era abbastanza scontato e considerate che era un formato abbastanza grande perché dà 300.000 di prodotto. Questo è il lenitivo con estratto di camomilla, dovrebbe idratare, elevare e prevenire l'editazione e sacchezze. È sempre prodotto Madinite, leva 12 mesi di PAO. Mi sono trovata bene, anche se comunque i miei preferiti sono quelli d'Harmamed, però non è male, non costava tantissimo, forse anche questo intorno a 1 euro o 1 euro o qualcosa. Abbastanza delicato, non faceva irritare. Mi sono trovata abbastanza bene, se dovessi ritrovarlo per questo prezzo sicuramente l'ora acquisterei. Poi ho terminato una maschera per capelli, è praticamente del brand La Bioteca Italiana, era la Mandorla, mi è piaciuta tantissimo. Di questo ho provato anche lo shampoo che non mi era piaciuto, avevo preso un kit dove c'era il bagno schiuma, lo shampoo e la maschera. Il bagno schiuma non l'ho ancora provato, questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato anche il mio ragazzo a mo' di balsamo. Era una maschera di cui mi bastava pochissime, considerate che io adesso ho i capelli abbastanza lunghi, quindi ne utilizzo di più rispetto a prima. Di quelle maschere non troppo dense, che mi lasciano i capelli lucidi, ma soprattutto morbidi e districabili. All'interno c'erano 150 milioni di prodotto, aveva 6 mesi di powder, un prodotto made in Italy. Appunto c'erano questa buonissima profumazione che più di Mandorla mi ricordava qualche profumazione di dolcetti, quasi tenete un po' il cacao, non lo so. Molto particolare, rimaneva un po' nei capelli ma non tantissimo, ma l'importante è che facesse il suo effetto, nel senso che era una maschera di quelle abbastanza leggere, di quelle, non dico da tutti i giorni perché comunque faccio 2-3 volte la maschera alla settimana, però di quelle non trattamento, non ho fatto gli impacchi, ma semplicemente l'ho messa nei capelli per massimo 10 minuti, anche sotto la doccia e poi lo tolgevo. Mi è piaciuta tantissimo, sicuramente l'avrei acquistata. Un prodotto invece che non mi è piaciuto per niente è questo scrub del brand Nakomi. Questo è uno scrub che avevo acquistato quando sono stata in viaggio a Valencia, il mio ultimo viaggio. Stava per scadere, quindi l'ho utilizzato, era uno scrub al cioccolato, molto carino nella confezione che non terrò comunque. E' uno di quelli scrub abbastanza corposi, nel senso che aveva i granuli un po' più grossi rispetto a quelli a cui sono abituata io, consigliate che ho una pelle tenente al secco abbastanza delicata, quindi dovevo stare attenta. L'unica cosa che non mi piaceva tantissimo è il fatto che una volta che lo spalmavate sul vivo, faceva una schiumetta bianca. Non lo so, non mi convinceva. Aveva un colore sul marroncino, ve l'avevo mostrato già nel video in cui vi mostro i prodotti che sto per utilizzare. Non lo so, non mi ha detto niente di chissà che cosa, appunto ho dovuto utilizzarlo solo se non ero irritata, perché sennò erano troppo grossi i microglanuli. La profumazione era sì al cioccolato, però un po' nauseopondo. A me piacciono le profumazioni dolci, però non lo so, non mi ha convinto. Non costava neanche pochissimo, perché se non sbagliato pavano intorno 3-5 euro, una cosa del genere. C'erano solo 100 mila di prodotto, aveva una scadenza prefissata, mi aspettavo qualcosina di più. Un altro prodotto che non mi ha detto niente è questo qui, che è un bagno schiuma palmolive, che ho acquistato alla Lidl, se non sbaglio lo pagato intorno a 1,30. C'era tantissimo prodotto perché aveva 600 mila di prodotto, è un prodotto Made in Italy. Questo era con latte di mandorla, aveva 12 mesi di pau. A me non mi è piaciuto il fatto che comunque era molto molto leggero, non sembrava un bagno schiuma, ma quasi un sapone per le mani di quelli, abbastanza easy. Non era densissimo, non era in gel, ma era di quelli cremosi, ma neanche troppo. Proprio, non lo so, non mi diceva niente di chissà che cosa, la profumazione non rimaneva. Cioè, era abbastanza buona appena l'utilizzavate, però dopo 10 minuti non avevate più nessun profumo, almeno così nella mia pelle, ma anche quella di mia mamma. Anche a lei non mi hanno detto niente di chissà che cosa, se volete un bagno schiuma da tutti i giorni, che potete acquistare al supermercato, ve lo consiglio, anche perché costava pochissimo. Però, se cercate qualcosa di più, non ve lo consiglio. Poi ho terminato, un prodotto di cui avevo tantissime aspettative, per niente. E' questo balsamo idratante del brand Intra. Era un balsamo biologico, quindi mi aspettavo tantissime cose, nel senso che l'ho pagato intorno ai 5-6 euro. E all'interno ci sono comunque 250 mila di prodotto. Aveva una buona profumazione, però ho notato che ho dovuto mettere più prodotto rispetto ad altri balsamo, ma forse perché questo comunque è biologico. Considerate che il 98% degli ingredienti sono di origine naturale, però dovevo mettere più prodotto, non li vedevo così tanto districati, né così tanto idratanti. Nel senso che i capelli, sì, li pettinavo, non si formavano in nodi, però non li vedevo così lucenti, così tanto idratati, come con altri balsamo. E per il prezzo che l'ho pagato non mi ha convinto. Comunque non aveva né slas, né peg, né parabeni, né siliconi, né oli minerali, né coloranti artificiali. E' un prodotto vegan ok, è del brand Arbor, quindi sempre made in Italia, va a 12 mesi di PAO. Quindi dice che per capelli delicati. Mi aspettavo qualcosina di più, anche perché comunque, come vi ho detto, non ha un prezzo basso. E per di più è finito subito, nel senso che l'ho finito molto più facilmente rispetto ad altri. E' molto comodo il fatto che aveva la pompetta così, io l'ho tagliato comunque perché un po' di prodotto si è addensata alla fine e lo voglio utilizzare tutto completamente. Lo faccio con tutti i prodotti, figuriamoci con questi che costano un po' di più. Questo era con l'aloe e la mela verde, magari sono ingredienti che a me non faranno nessun affetto. Proverò anche gli altri perché ho acquistato anche altri di questo brand, però mi aspettavo di più. Poi come tutti i mesi ho terminato un pacco di questi dischetti struccanti della Fior di Magnolia, che è un brand che voi trovate all'Eurospin. Mi trovo bene, sono 100% naturali, costano 80 centesimi, hanno due facce, una faccia un po' più struccante, un po' più tonificante e una faccia più liscia. Comunque mi trovo bene, sapete, li termino ogni mese praticamente, li utilizzo anche mia mamma. Sono di quelli che costano meno e sono quelli che mi piacciono di più. Poi ho terminato un altro sapone per le mani, questa è la della Neutral Roberts, con olio di mandor all'interno. Era nutriente, sicuramente più nutriente rispetto a quello della Mammy. Ho provato altri saponi per le mani, un po' più nutrienti rispetto a questo, acquistate la Lidl, però non mi sono trovata male. L'olio di mandorale 100% naturale, potevate evitare di avere tutti i flacconcini, quindi da cestinare perché è di quelli ecco ricarica, quindi mettete all'interno di un contenitore, noi comunque abbiamo un contenitore in bagno anche quando acquisto gli altri che hanno la confezione. All'interno c'erano 400 ml di prodotto, aveva 18 mesi di pao, poteva essere utilizzato sia per le mani, per il viso, per il corpo, ma l'ho utilizzato solo per le mani. Qua dice che così si riduce il 50% del volume di rifiuti di plastica. Avevate anche il dosatore, quindi potevate richiuderlo se non lo terminavate subito. Aveva una profumazione appunto abbastanza delicata, la mandorla non rimaneva tantissimo nelle mani, però l'importante è che fassero un po' più idratate, perché come vi ho detto ultimamente, utilizzando tutta una mucchina o utilizzando questi detergenti per le mani, un po' si screpolano. Io non soffro tantissimo di mani screpolate, però mi accolgo che sono un po' più secche. Mi è piaciuto, sicuramente lo lo ricosterei. Un altro detergente che ho terminato è questo qui della Sieno, che non mi ha detto chissà che cosa, questo ha messo tantissimi prodotti un po' insolsi. Questo gel detergente intimo non l'avevo mai acquistato, l'ho trovato in linea permanente e con l'aloe vera, dermatologicamente testato, con il pH 4.5, questo qui. Aveva 500 ml di prodotto, 6 mesi di pao, è prodotto in Spagna. Diciamo che sì, non mi ha irritato, non mi ha fatto nessuna problematica, però come vi ho detto i miei preferiti sono quelli di Dermabed, le trovo un po' più, non dico lavanti, un po' più densi. Questo era un po' più liquidino, non mi ha irritato, non mi ha dato nessun fastidio, però preferisco altri detergenti intimi, sicuramente questo non lo ricosterò. Poi abbiamo terminato questo prodotto che è piaciuto tantissimo agli altri componenti della mia famiglia, quindi ai miei fratelli e ai miei genitori, perché io ho utilizzato detergenti per il viso un po' più delicati. Costa 2€, gli è piaciuto tantissimo, tant'è che lo vogliono sostituire con quello che acquistiamo di sotto di brochet, che è quello verde della linea Hydra Vegetal, gli assomiglia tantissimo, sicuramente costa molto meno, perché quello costa intorno ai 7€ e c'è 125 ml di prodotto, mentre questo c'è 150 ml di prodotto. Ha mi piaciuto un po' meno, ho bisogno di qualcosa di un po' più delicato, ma tanto questo è per pelli normali e miste, quindi lo sapevo già. Ci hanno messo un po' a terminarlo, è in gel, ne basta pochissimo. Pulisce abbastanza, l'ho provato qualche volta, è un po' troppo per il mio tipo di pelle, però per questo periodo dove bisogna pulirsi bene, secondo me va bene, soprattutto appunto perché la pelle è normale e mista. È un buon detergente che potete trovare a discanto se andate alla Lidl, quindi ve lo consiglio. Poi ho terminato questo shampoo al cinegio, che è questo proprio un flop, è della linea Hydra Viva, che è una linea che trovate a Maurice. L'ha provato qualche volta mia mamma, però non mi è piaciuto, l'ho provato qualche volta io e non mi è piaciuto, alla fine l'ho utilizzato per pulire i pennelli. Questo in realtà era per Ricci perfetti, ma l'ho preso soprattutto per la profumazione, e poi ho pensato se è per Ricci sicuramente non fa rendere stopposi i capelli e secchi, però i capelli si sporcavano subito e così erate che i miei capelli non si sporcano facilmente. Aveva una colorazione sul rosa fucsia, buona la profumazione, ma non mi è piaciuto il fatto che i capelli si sporcavano facilmente, e per di più l'ho fatto provare a mia mamma che li si sporcano subito, quindi non lo riacquisterò, non costava tantissimo, forse 80 centesimi, quindi pochissimo, però a quel punto acquisto qualcosa che costa leggermente di più, però che mi piaccia. Aveva 300.000 di prodotto, 12 mesi di pao, non lo riacquisterò. Poi ho terminato questo formato da viaggio dell'Histerine, è il mio colutore preferito, a me piace di più quello viola rispetto a questo verde, però non è male, aveva 95.000 di prodotto, 6 mesi di pao, io lo porto sempre in viaggio, anche se comunque non va nel bagaglio a mano, però quasi sempre io porto il bagaglio da stiva, però sapendo che non possiamo viaggiare, lo sto utilizzando tutti i campioncini, ho utilizzato anche questo, lo regalo molto spesso, se acquistate la confezione grande al supermercato, mi trovo sempre bene, come con l'utero tutti i giorni, non faccio lo sciacquo ogni volta che mi lavo i denti, mi trovo bene. Poi ho terminato una crema per il viso che mi è piaciuta tantissimo, mi è durata massimo 3 mesi, è della Cleanance, di questa stessa linea ho provato anche il detergente per il viso, mi è piaciuto tantissimo. Questo era illuminante, a volte un po' così arancione, l'ho terminata completamente, come va detto, mi è piaciuta tantissimo, era di quelle creme abbastanza densa, che vanno benissimo per l'autunno, ma soprattutto per l'inverno. Io ho una pelle tenente al secco e mi ha aiutato tantissimo, anche nel periodo in cui ero un po' più secca, lo utilizzavo al mattino e alla sera. Non è neanche tantissimo pesante, soprattutto perché non ho un tipo di pelle come il mio, quindi potete utilizzarla anche al mattino, anche se comunque adesso non sto uscendo. Aveva 12 mesi di paura, intorno a 150 mila di prodotto, era una coccola matutina e sarà rara che mi è piaciuta tantissimo. Sicuramente l'avrei riacquistata se non avessi così tante creme per il viso da utilizzare. Poi ho terminato tantissime maschere, uno di questi in realtà sono due patch occhi, della linea You Are Golden Eye di Kiko. Sapete che io preferisco più prodotti per tutto il viso che non questi come patch occhi. Della linea così in oro, mi piace tantissimo, sempre di Kiko, la maschera per tutto il viso. Non mi è dispiaciuto, nel senso che vedevo il contorno occhi un po' più disteso, è un po' più luminoso, però niente di chissà che cosa, l'ho lasciata 20-25 minuti. Preferisco o fare una maschera in tessuto per tutto il viso, oppure utilizzare una maschera per il contorno occhi, quindi concentrarmi su questa zona con una maschera di quelle cremose. Poi ho utilizzato questa maschera di Olika Olika, l'ho pagata intorno ai 2 euro al massimo, l'ho presa da Cosmetic For Less. In realtà questa è hard study, quindi dovrebbe essere utilizzata dopo che uno studia. Io non studio più, però l'ho utilizzata dopo una giornata lavorativa, con la pelle un po' più distesa, un po' più morbida, ma soprattutto compatta e idratata. C'è tantissimo prodotto all'interno, non vi so dire gli ML, non li vedo, però mi sono trovata davvero bene. All'interno certa verde dice di utilizzarla dai 15 ai 20 minuti, l'ho utilizzata a mezz'ora. Queste del brand Olika Olika mi piacciono tantissimo. Poi ne ho utilizzata un'altra, che però è cremosa, non è in tessuto, del brand Revox, se non sbaglio questo era un campioncino. Una maschera all'avocado, che dovrebbe idratare e rigenerare, va benissimo se avete la pelle, è molto molto secca. Io l'ho messa sul viso, l'ho tenuta un quarto d'ora al massimo, e poi avevo la pelle morbidissima, ma soprattutto idratata, e mi piaceva tantissimo proprio al tatto. Aveva all'interno anche la vitamina A, B, C, D e K, è fatto così, all'interno c'erano 7,5 ml di prodotto, ma li ho utilizzati tutti per un'unica applicazione. Anche questo dice di tornare dai 15 ai 20 minuti, ma l'ho tenuta circa una mezz'oretta, dice che può essere utilizzata da uno o due volte alla settimana, appunto l'ho utilizzata solo una volta, mi è piaciuto tantissimo. Uno invece che non mi è piaciuto è questa della brand Coco Star, sono dei patch che potevate utilizzare tutto il viso, quindi metterli magari nelle guance, sulla fronte, sul mento. Questi patch fatti così mi piacciono meno rispetto a quelli che vi ho mostrato prima per occhi, perché quelli per occhi secondo me hanno un senso, ma anche quelli a volte per le guance. Però questi così erano di quelli molto molto fini, avevano la forma di una fragola, erano praticamente in carta, non c'era tantissimo prodotto, erano un po' rinfrescanti, ma non mi ha fatto nessun effetto, praticamente li ho lasciati una mezz'oretta, ma erano poco poco imbevuti. Io quando devo fare le maschere, soprattutto queste in tessuto, preferisco quando sono molto imbevute, avendo una pelle tendita al secco, preferisco qualcosa che mi idratti. Qua dice che erano sia idratanti che purificanti, sono Made in Corea, avevano 20 ml di prodotto all'interno e 12 di questi patch. Ne ho utilizzate tipo 4 alla volta, 2 li ho messi nelle guance, non solo affrontano sul mento, ma non sembrava ci fossero nemmeno 20 ml di prodotto. Avevo una schadenza prefissata, non mi sono piaciuti, ne ho provato altre di questo brand, sempre fatti così in dischetti praticamente, ma non mi sono mai piaciuti. Considerate che ho acquistato forse due confezioni, poi ne avevo trovato anche in cannello dell'avvento di Amazon, addirittura dell'altro anno, quindi non le requesterò. Un'altra maschera che mi piaciuta tantissimo, questa della Natura Verde, che aveva 7 benefici della bava di Lumacca, si teneva 15 minuti, era con aloe vera e bruno di carité. Avevamo anche il cè per tutti i tipi di pelle, e si vede che c'era comunque un si era la bava di Lumacca, perché aveva una consistenza sia in gel, ma molto particolare, diversa dalle solite maschere in crema, anche con questo ho fatto un'unica applicazione, era dermatologicamente testata, non c'erano petrolati, parabeni e coloranti, il 35% degli ingredienti era biologico, il 99,35% era di origine naturale, e il profumo era 100% naturale. Mi è piaciuta abbastanza, sicuramente l'avrei riacquistata. Sapete che ho avuto un periodo ancora fissatissima con le maschere nel tessuto, ma preferisco fare da questo periodo d'estate, perché l'inverno sono troppo fredda, non so perché, preferisco queste fatte così in crema. Per essere una di quelle in crema, però non in tubetto, mi è piaciuta tantissimo, per un'unica applicazione, massimo due applicazioni, va benissimo. Una invece che non mi è piaciuta tantissimo, e mi ha stupito, perché queste sono proprio in crema in tubetto. La confezione era fatta così, aveva una scadenza prefissata, ne sto utilizzando un'altra, non con il miele, con un altro ingrediente, se non ho sbagliato, la do è vera, infatti mi è stupito, perché quella mi sta piaciendo più di questa. Comunque, questa era al miele e la mandorla, 10 ml di prodotto, una scadenza prefissata, era made in China, del brand MPW, ho aperto la confezione, l'ho finita in due applicazioni, è un po' più densa rispetto a altre maschere, al contrario di quella che vi ho mostrato prima, quindi al tatto non era male, cioè anche quando l'ho messa sul viso, però alla fine avevo leggermente un po' più dilatata la pelle, ma come mettere una crema alla fine. Una che mi è piaciuta tantissimo, che vi ho mostrato tantissime volte, per chi ne avevo un po' in collezione, è questa al cocco, del brand Professional Kiss New York, che trovate da scarpe scarpe, l'avevo pagata 3,50 euro, avevo 20 ml di prodotto all'interno, anche questa è una scadenza prefissata, c'era appunto l'acqua di cocco, quindi aveva una buonissima profumazione, l'ho lasciata sul viso, quella mezzoletta anche se 15-15 minuti, avevo la pelle molto molto idratata, c'era tantissimo prodotto, non capisco perché alcune maschere così in tessuto, però nello stesso quantitativo, sembrano più un bevuto di prodotto rispetto ad altre, così vedete che questo l'ho spalmato anche sul collo, l'ho lasciato agire, avevo la pelle un po' più soda, un po' più idratata, proprio anche luminosa, mi piaceva come effetto. Poi ho terminato questo contorno occhi, era di al verde, avevo il Q10 all'interno, 10 ml di prodotto, avevo la schienza prefissata, e la pompetta, era molto molto comodo anche da portare in viaggio, però alla fine non mi aveva detto chissà che cosa, era molto simile al contorno occhi della Sien, quello della linea permanente al melograno, che utilizzavo tantissimi anni fa, però adesso mi accorgo che non basta più per l'età che ho, è molto molto delicato, potrebbe andare bene come contorno occhi del mattino, però preferisco dei contorno occhi un po' più corposi, con degli effetti maggiori rispetto a questi, secondo me va bene per chi ha un età inferiore ai 30 anni. Poi ho terminato questo scrub mani, lo sto anche utilizzando in questo mese, perché ho due confezioni, sicuramente se riportano questa linea all'lito, l'ho riacquisto perché mi piace tantissimo, è uno scrub per le mani che utilizzavo anche fino all'avambraccio, è del brand appunto Sien, della linea Tropical Summer, ho avuto 12 mesi di pausa, 75 ml di prodotto, io l'ho aperto, puoi utilizzarlo tutto, all'interno aveva una consistenza in gel, cremoso però, aveva una base, un sul gel lino, più tutti i microglioni in fucsia, ha una buonissima profumazione, se non sbaglio è al mango, sì, mango e papaya, mi piaceva tantissimo la profumazione, mi lasciava le mani abbastanza, sia idratate, ma soprattutto mi permetteva di eliminare le pelliccine, e quindi assorbire bene proprio la base del prodotto, è abbastanza delicato, i microglioni sono molto molto piccoli, ho cercato subito in collezione, l'altra confezione, e appunto lo acquisterò senz'altro. Poi ho terminato questo struccante occhi della Garnier, della Linea Skin Active, era uno struccante occhi delicato, sapete che io acquisto sempre degli struccanti occhi così, perché ha la pelle delicata e gli occhi delicati, perché ho questo occhio che mi lacrima facilmente, e quindi utilizzo sempre degli struccanti così, anche se comunque quello che mi piace di più è quello di Provenzali Bio, perché ha il pH e l'isola cremale, però non era male, struccava tutto, questo dice che strucca anche il trucco waterproof, ma io non utilizzo quasi il trucco waterproof, se non qualche volta d'estate, maschera waterproof, ma in generale è un trucco abbastanza nude, con dei colori che si struccano abbastanza facilmente, però non avevo difficoltà a struccare per esempio il mascara, che a volte il mascara danno qualche problema in più, mettevo un po' di prodotto in un cotoncino, e struccavo gli occhi, avevo l'estratto d'uva, e per pelli normali miste, ma l'ho utilizzata anche io, che ho una pelle tendente al secco, e avevo 6 mesi di poi, 125.000 di prodotto, è facile da trovare, ne basta pochissimo, e di quelli abbastanza liquidi comunque, io quando vado al supermercato, trovo delle offerte su questi prodotti del genere, li acquisto sempre, mi sono trovata bene, sicuramente li avrei riacquistati, poi per quanto riguarda i prodotti per la casa, non ve le mostro mai, ma sicuramente quando andrò via, e vi verrà per conto mio, ve le mostrano qualcuno, questo ve lo voglio mostrare, perché, non so perché, era interminabile, e quindi, come trofeo, ve lo mostro, nel senso che, ci ho messo come minimo due anni a terminarlo, era un profumatore per ambiente, di quelli però, che si spruzzavano, che ho acquistato, almeno due anni fa appunto, quando ho aperto il Maurice, in un altro paesino, dove abito io, dice che doveva due ore e 60 giorni, permetto che non lo utilizzavamo tutti i giorni, però, due altre volte la settimana lo utilizzavamo, non lo facevamo qualche spruzzo, ma non terminava mai, adesso finalmente è terminato, non era male, aveva una profumazione orientale abbastanza, all'interno c'erano 250 ml di prodotto, preferisco, per profumare l'ambiente, i classici profumatori dell'ambiente, con i bastoncini, però in bagno, in alcuni momenti, aiutava a mantenere la freschezza, aiutava ad avere il bagno profumato, noi comunque apriamo sempre la finestra, però un po' aiutava, soprattutto quando c'era molto freddo, appunto, preferisco altri profumatori, ne ho un altro che sto utilizzando, però non di Maurice, ma l'avevo acquistato alla Lido, il profumatore di Amaretto, che non mi sta piacendo tantissimo, soprattutto la profumazione, comunque con questo si sentiva, bastavano due spruzzini, e profumavo tutto il bagno, con il profumo non era male, però preferisco altro. Sempre per la casa, ho terminato due candele, una è questa qui, che ho acquistato da questa pone, l'ho anche già lavata questa, non so se lo otterrò in camera, o lo metterò da parte, perché si ha degli spruzzini un po' rosa, però c'è anche il viola, quindi non si abbina alla stanza, alla fine sto tenendo in camera solo le cose bianche e rosa, anche perché ho la camera stra piena di prodotti, quindi sto cercando di questi prodotti, di magari metterli da parte, può essere riutilizzato, infatti tutti questi porta candele, che sono un po' più carini, li sto pulendo, e li riutilizzo tranquillamente, questo doveva fare, se non sbaglio, 25 ore, mi è piaciuto per il fatto che è durato un po', ma non aveva nessuna profumazione, inizialmente aveva leggermente profumazione di vaniglia, ma sentito così col naso acceso, non si sentiva per niente, alla fine riuscite anche a togliere lo stoppino senza problemi, l'ho messo in frigo come sempre, l'ho fatto gelare, diciamo così, la cera, e poi l'ho tolta proprio la parte proprio finale, comunque riuscite a utilizzarla tutta, l'unica cosa che non mi piace è il fatto che non avesse profumo, mi aspettavo qualcosina in più, un'altra allo stesso che non mi mette chissà che cosa, ho iniziato a sentire un po' il profumino alla fine, proprio le ultime orette, una o due orette un pochino, ma niente di chissà che cosa, io abituata con le Iki Candle che profumano tutta la stanza, mi sono trovata male, perché di più ha un po' il colorato di nero il bicchiere, ma adesso lo laverò senza problemi, l'ho proprio terminato ieri, questa era con la fronanza di ambra, e doveva durare 35 ore, durato comunque così tanto, però anche questo non profumava tantissimo, sicuramente infatti non le racquisterò, queste fatte così ne avevo 4 o 5, ne sto utilizzando anche un'altra, l'ho acquistata da Yusk, costava sempre intorno ai 3 euro, quindi non tantissimo, ma niente di chissà che cosa, l'avevo acquistata perché c'era questo disegnino, anche se in realtà questo disegno è alla fine carta, quindi al momento in cui lo laverò, molto probabilmente andrà via. E poi le ultime 3 sono 3 confezioni di tisana, una era questa qui, che mi sono pentita di acquistare, perché costava scontata 3 euro e passa, del brand Nea Vita, mi sono pentita perché comunque era agrumi, e io non avevo tantissime profumazioni agrumate, mi fanno venire un po' di acidità, non era male come sapore, è più un sapore che accomuna al pomeriggio, quindi quando faccio la tisana al pomeriggio, rispetto al mattino, c'erano 15 fiette all'interno, quindi non tantissimi, diciamo che appunto da qualche annetto, sto più acquistando tisane al supermercato, che non in profumeria, quindi è anche un po' scomodo acquistarlo, anche se ho visto che per esempio quelle pucche, le stanno portando anche al Conad, non lo so, niente di chissà che cosa, preferisco un sapore un po' più dolci, come per esempio questo, questo mi è piaciuto tantissimo, non so perché, l'avevo bevuta anche d'estate, d'estate io preferisco non bere le tisane, e questa però si poteva bere fresca, fresca o calda, il sapore non mi diceva niente di chissà che cosa, adesso l'ho riprovata, mi è piaciuto tantissimo, questa è pesca e maracuja, buonissima, dolcissima, buona da prendere al mattino, appunto mi piacciono queste profumazioni così dolci, alla pesca, ai frutti di bosco, quindi mi è piaciuto tantissimo, sicuramente la riacquisterò, all'interno c'erano 18 bustine, ognuna da 2,5 grammi, ho trovato al supermercato intorno ai 2 euro, poi ho acquistato questa confezione, che ho subito utilizzato e terminato, sempre della Pompadour, come quella precedente, questa è molto carina per l'inverno, era molto carina perché si apriva così, c'erano 30 bustine, l'ho pagata intorno ai 6 euro, 5 bustine per ogni gusto, quelli che mi sono piaciute di più, sono mille e una notte, caldo a braccio, e more lampone, questa arancia rossa non era male, però appunto un po' troppo grumata, e gli altri invece non mi sono piaciuti tantissimo, quella more lampone la trovate anche in edizione permanente, io l'ho acquistata anche altre volte, mi sarebbe piaciuta, e niente, questi sono tutti i prodotti che ho terminato, per quanto riguarda Beauty Home e Tisane, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete mai acquistato questi prodotti, se avete consigliato qualcosa, anche low cost, anche della Sien, qualcosa che terminate, e vi piace tantissimo, anche di prodotti e cost, se vi è piaciuto mettete mi piace, e a presto, ciao!